E' il momento di Teramo San Benedettese, domani qui su questo campo al Bonolis si giocherà l'atteso derby tra Biancorossi e Rossoblu, squadre che arrivano a questa partita da due momenti differenti. Il Teramo che reduce dal pareggio contro il Renate, ma la vittoria manca in casa Biancorossa dallo scorso 14 ottobre, il giorno di Teramo Padova, mentre i Rossoblu sono in ritiro a Monteprandone perché l'uscita dalla Coppa Italia per mano della Casertana ha fatto infuriare la dirigenza. Ma Asta, anche se è arrivato da qualche mese, è consapevole dell'importanza di questo match per la tifoseria Teramana e ne parla proprio così. Come tutti i derby è diverso, non sono partite come le altre, che se no saremmo tutti un po' bugiardi. Io alle volte sento, ma sì, quella partita è uguale come l'altra. No, se no non sono derby, sono diversi. Però questa squadra, questi ragazzi, credetemi, dipendentemente da tutto, la stanno vivendo come una partita importante, ma ci hanno messo l'anima in tutte le altre gare. E' logico che i derby, tra virgolette, valgono doppio, non come punti, come tutto. Quindi sicuramente, insomma, arriva in un momento lunedì sera, tanti occhi addosso, e quindi anche per loro sarà una motivazione in più. Dal fronte formazione in casa Teramo sarà ancora 3-5-2. Non ci sono dubbi praticamente in difesa a centrocampo. È recuperato Amadio dopo la contrattura accusata a Renate. I dubbi invece sono tutti in attacco, con quattro giocatori in lotta per due maglie, ma le ultime ipotesi danno per titolari addirittura Foggia e Barbuti. Quindi ci potrebbe essere un doppio centravanti scelto da Asta. In casa San Benedettese sarà ancora 3-4-3, con Capuano, che quindi confermerà il modulo già utilizzato per le precedenti due gare. Per come stanno giocando loro, col 3-4-3, alla fine i due esterni diventano cinque, con due centrocampisti e tre attaccanti. Comunque spregiudicato fino a un certo punto, perché hanno un attaccante in più, come al sistema di gioco che è in passato con Moriero, però hanno un difensore anche in più, a cinque, a tutti gli effetti. Quindi non so cosa farà lui, cosa farà Capuano, però le ultime partite hanno detto 3-4-3, ma noi ci prepariamo di giocare anche contro un eventuale 3-5-2, un sistema che lui ha adoperato spesso. Però sta di fatto che, indipendentemente da questo, rimane una squadra importante, una squadra a livello qualitativo singolo molto importante, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Poi un allenatore conosce bene la categoria e quindi mi aspetto qualunque situazione anche tattica, quindi dobbiamo essere bravi, pronti a tutto. Questa settimana abbiamo provato soluzioni diverse in base anche a quello che faranno loro. E proprio sulla vittoria che manca da ormai oltre un mese, Asta si è concentrato quest'oggi in questa vigilia, parlando anche dell'astinenza degli attaccanti, a cui non sta dicendo granché nel corso degli allenamenti, li sta lasciando tranquilli, però è chiaro che molta dell'attenzione di domani sarà concentrata anche su di loro. La vittoria ci manca, questo è un dato di fatto, è proprio numerico, non si può dire di no. Tutti speriamo, ma ci mancherebbe che arrivi il prima possibile, però non voglio che diventi un'ossessione, che dopo, come è successo con il Gubbio, purtroppo vincere, 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 addirittura l'abbiamo persa, immeritatamente. Quindi è come gli attaccanti, che in questo momento, io sono il primo, un po' come tutti, anche quello a livello oggettivo, fai pochi gol, così, e allora ti fai quasi, come dire, non arriva, non arriva, non arriva, e veramente ti porti dietro un fardello, non arriverà mai, sbaglio sicuramente, con poca fiducia. Stessa cosa vale la vittoria. Forse quando meno te l'aspetti, arriva sia il gol, la vittoria.